Musica Harvest 2023 Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto Eccoci E quindi Voglio solo dirti che La parola profetica non è che finisce l'anno e dice Non ho avuto una ricompensa, mannaggia E quando Dio dice Apri una, come una porta e accelera questa parola Questa cosa nella nostra vita Per esempio Quando noi abbiamo avuto un anno che era l'anno per allargare le tende Questa era la parola profetica Noi abbiamo compreso che avremmo dovuto incominciare ad aprire altre chiese All'epoca avevamo solo la chiesa Luano Cioè non ce l'avevamo Loro venivano qua ogni 15 giorni da Luano C'era un gruppo che veniva da Brescia E un gruppo che veniva da Biella Ma non c'erano altre chiese Noi abbiamo capito e nel nostro intendimento Questa cosa che Dio ci diceva Allargate le tende Era per aprire Alcune chiese Di gente che veniva qua da molto lontano E quindi noi abbiamo cominciato con Luano Che è stata la nostra primissima chiesa E poi abbiamo allargato a Brescia E a Biella E quindi abbiamo pensato che questa cosa Fosse per quell'anno Due, tre chiese che Dio ci stava dicendo Invece Guardate, guardate Non è stato neanche in quell'anno Ma qualche anno dopo Che abbiamo aperto 30 chiese in un anno Perché? Perché Dio ha aperto un portone E in quel portone Abbiamo compreso Che è un portone Che poi accelera qualcosa Nella nostra chiesa Amen? Quindi quest'anno è stato Abbiamo messo Su Sabao TV Chi segue i podcast? Ecco, sapete che noi abbiamo dei podcast molto carini Su Sabao TV Abbiamo messo Alcune storie di ricompensa La ricompensa di Un ragazzo che stava praticamente morendo In ospedale E parla della sua guarigione Proprio in quest'anno Qua con noi Abbiamo messo anche la testimonianza di una donna Che faceva dei lavori molto semplici E che lei ha cavalcato questa parola profettica E che ha aperto Un sacco di business Piccolina così Meravigliosa E lei racconta come è entrata Perché vedete Quando noi riceviamo una parola profettica Ci sono due modi di riceverla Uno Passivamente Va bene Dio farà E alcune volte la parola è passiva Alcune volte è solo Ti ricompenserò Ti ricompenserò Altre volte La parola profettica Ha a che fare con un movimento Con qualcosa che tu devi fare Se non devierai Né a destra Né a sinistra Dei comandamenti Che oggi ti do Queste saranno le benedizioni Che ti verranno E ti raggiungeranno Questo se implica Che non è che arriva la benedizione E mi cade sulla testa Ma c'è un se Se non devierai Né a destra E se non devierai A sinistra Che vuol dire Che ci sono alcune promesse Di Dio Che sono condizionate Quindi dipende anche Da qualcosa che faccio io E se io non lo faccio Questo non avviene E questa donna Ha preso una delle parole Che abbiamo ricevuto Durante tutto quest'anno Che era la parola Di investire Di incominciare dei business Di incominciare i sogni Che non avevi E come lei Molte persone Nella nostra chiesa Hanno incominciato In quest'anno Dei loro business E alcuni stanno Veramente crescendo Una persona ha aperto Tre o quattro immobiliare Tutto in un anno Non è neanche italiana Questa persona Ma ha detto Dio lo ha detto È il mio sogno E io lo farò È strano Che a volte Quasi più gli stranieri Hanno avuto più coraggio Degli italiani Che gli italiani Sono un po' paurosi Se poi va male Se non incomincerai mai Non saprai mai Amen Ci sono delle persone Un Elon Musk Di turno Che dice Che è fallito Per sei volte Prima di riuscire A rimanere in piedi Se tu non metti I piedi nel mare Il mare non si aprirà mai Noi dobbiamo avere Coraggio Di avere fede La fede È un atto Anche di coraggio Amen E quindi Meraviglioso Sicuramente Abbiamo messo Lì nei social Metti qualcosa Che Dio ha fatto Io credo che Dio ricompensi Sempre Nel bene E nel male Chi semina male Raccogli male Chi semina bene Raccogli bene È la legge Della semina e della raccolta Amen Io per quanto mi riguarda Ho avuto veramente Un anno Di grandi raccolte Ho potuto cavalcare I pulpiti Più importanti Della mia nazione Avevo cavalcato Il pulpito Più importante Degli Stati Uniti Che era quello Di Rick Warren Era già un wow Ani fa Però Ho potuto davvero Andare in luoghi Che non ho mai immaginato Pensate Quando ero piccolina Io vedevo Questi mostri Del Vangelo Non ero neanche Evangelica Ero cattolica All'epoca E vedevo queste persone Queste chiese Questa gente Gente che ascoltavo Su internet E dicevo Wow Un giorno Da grande Voglio essere Come loro E poter avere loro Che mi sentivano Predicare Io ho detto Signore Questo è la ricompensa Per tanta fatica Non è una questione Di essere famosi È una questione Di avere una ricompensa Per anni e anni E anni Di fatica Di lealtà Di sottomissione E soprattutto Di onore Saper onorare Le persone Che in qualche modo Ci hanno benedetto Amen Ed è di questo Che parlerò oggi Parlerò di Gratitudine Amen Gratitudine E voglio leggere con te Questo passaggio In Luca 17 Dal 1 al 19 Luca 17 Dal 1 al 19 Che dice così Nel recarsi a Gerusalemme Gesù passava Sui confini Della Samaria E della Galilea E mentre entrava In un villaggio Li venero incontro Dieci uomini lebrosi Dite con me Dieci uomini lebrosi I quali si fermarono A distanza E alzarono la voce Dicendo A distanza Perché erano lebrosi Sapevano che la gente Fuggiva da loro Solo se fossero vicini I quali si fermarono A distanza E alzarono la voce Dicendo Gesù Maestro Abbi pietà di noi Veduteli Egli disse loro Andate a mostrarvi Ai sacerdote E mentre andarono Furono Purificati Uno di loro Vedendo che era guarito Tornò indietro Glorificando Dio Ad alta voce Si gettò ai piedi Di Gesù Con la faccia a terra Ringraziandolo Or questo era Un samaritano Non era neanche Del popolo Di Gesù Gesù rispondendo Disse I dieci Non sono stati Tutti purificati Dove sono Gli altri nove Dove sono Gli altri nove Non si è trovato Nessuno Che sia tornato Per dare gloria A Dio Tranne questo Straniero Ed Egli disse Alzati e va La tua fede Ti ha salvato Ecco Questa è una storia Super interessante Della Bibbia Per alcuni motivi Primo perché È l'unico caso Nella Bibbia Dove noi vediamo Una guarigione Progressiva Cioè Non è che Gesù Ha guardato il cieco Gli ha messo il fango Negli occhi E lui ha veduto Subito E quello era paralittico E si è alzato No In questo caso Loro da lontano Guardano e dicono Gesù aiutaci Siamo lebrosi E sono in dieci E Gesù Non gli dici subito Va bene Siete guariti Perché avrebbero Avrebbe potuto dire Ma lui gli dice Alcune cose Lui dice così La prima Dice Andate Dal sacerdote Fatevi vedere E sarete purificati Quindi hanno dovuto Avere fede Per tutto il cammino Cioè Andare dal sacerdote Vuol dire Che mentre io cammino Io dico Ma io non sono guarito Che cosa vado a fare Dal sacerdote Tu andavi dal sacerdote Quando eri malato Lebroso Avevi qualsiasi cosa Soprattutto per la lebra Perché loro Erano expert Nel capire Se le macchie Erano una malattia Della pelle Sapete che i sacerdoti Fungevano un po' Quasi da medici Da dermatologi E quindi loro Dovevano guardare Se queste macchie Erano una dermatite O una cosa del genere O se era lebra E quando loro Riconoscevano la guarigione E dicevano Sette guariti Loro dovevano avere Un periodo di purificazione E poi potevano essere In mezzo alla gente Quindi immaginate La testa dei dieci Prima di tutto Ma succederà? Ma verrà? Che cosa faccio vedere Al sacerdote Se Gesù mi dice Vai a farti vedere Ma io non sono Ancora guarito Ed è una guarigione Progressiva E questo ha a che fare Con molte volte Quello che avviene Nella nostra vita Perché ci sono E c'è Io per esempio Ho vissuto Delle guarigioni Stantanee Però ha anche Ha vissuto Delle guarigioni Progressive La maggior parte Di noi Vive delle guarigioni Progressive Per esempio Ci sono oggi Dei mariti Che sono meravigliosi Moglie meravigliose Ma quando tu hai sposato Questa persona Che dopo una settimana Volevi riportare a casa O riportarlo a casa Non era così Giusto? Poi magari oggi Con la parola di Dio Con la presenza di Dio Questa persona Ha iniziato a crescere E tu guardi il risultato Ed è un cambiamento Del suo carattere È un cambiamento Della sua vita Della sua posizione In un modo Progressivo La persona Che tu eri ieri Io non sono più La persona Che io ero ieri Perché? Perché sono cresciuta Perché ho imparato Delle cose In alcune cose Io ero molto più rigida Chi è incominciato Con me Lo sa Ti per il pastore Diano Altri Io ero molto così Le cose stanno così Pensa una volta Lei per scherzo Per scherzo Aveva messo Un orecchino Nel naso Così ma era Era una calamita E io ero così Contraria A mettere Qualsiasi cosa Dicevo Cosa mi fai A rovinarti Ribellione Che cosa L'ho mangiata E poi lei Non ha avuto Quasi neanche tempo Di dire No ma Era una calamita E per tante altre cose E tu inizi In un modo Progressivo A cambiare In un modo Progressivo Tu impari Anche a mettere Dei limiti Perché ci sono persone Che hanno dei limiti E c'è gente Che non ce l'ha Io mi ricordo Una volta Che entro Nel mio ufficio E trovo Una persona Che conoscevamo Da poco Che volevamo Anche aiutare Questa persona Perché avevamo Un sacco di problemi Le abbiamo aiutato A coprare una macchina Per lavorare Eccetera E questa persona Era seduta Nel mio ufficio Con le gambe Sopra il mio tavolo Ciao pastore Rosli E io guardavo Perché c'è gente Che non ha limiti O piuttosto Mi ricordo Un imprenditore X Che era arrivato Da noi Che aveva Debiti con lo Stato Problemi con la moglie Arriva e dice Ma forse ti aiuto A gestire questo posto Cioè E io ho detto Prima gestisci casa tua Tua moglie I tuoi debiti Poi magari Vieni a insegnare a me Cioè C'è gente Che non ha limiti In generale C'è gente Che non ha limiti Nel modo come ti tratta Nel modo come fare E io Ho ingoiato molte cose Nella vita Perché ero giovane Piccolo Arrivo a un certo punto Dove tu dici No 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 Da qua non si passa Perché avevo questa idea Di un cristianesimo Ingoia tutto Il cristiano è quello Che lo massacri E lui sorride Ecco non è così Perché la Bibbia dice Che noi dobbiamo perdonare 70 volte 7 Sì io perdonerò Ma da qua non passi E come dire Una donna Che è sottoposta A Abusi Lei devi perdonare Sì ma lei non è obbligata A stare lì A prendere le botte Amen Perché a volte Alcuni hanno pensato No come devo essere buona Allora prendo botte Come no E quindi noi Nella vita Cresciamo E questo è qualcosa Che succede Progressivamente E quando cresci Maturi Guarisci Guarisci L'anima Chi per esempio Aveva un sacco di problemi Nell'anima E dice Ah così ero guarito No Volevi che fosse così No A volte uno dice Che bello Oggi sono depresso Infelice Ho avuto una vita da schifo Mi sveglio Che sono una nuova persona No Abbiamo dovuto passare Dei problemi Affrontare delle cose E cambiare molto Quindi Una delle prime cose Interessanti Di questo passaggio È Una guarigione Progressiva Molti di noi Avranno una guarigione Progressiva Una crescita Progressiva È una cosa Che si chiama Un processo Di guarigione Di liberazione Di crescita E noi tutti Vogliamo il risultato Chi vuole il risultato? Ma nessuno Vuole passare Per il processo Quindi Quando una persona Si converte Lei pensa Domani Non ho i capelli Mi sveglio Capeluto No Non succederà Purtroppo Però puoi andare In Turchia Pare costa poco Allora Puoi andare Poi in missione Con il pastore Giannone Poi ti fai Una puntata In Turchia Già A profita Aiuto un po' Allora È ovvio È ovvio Che non tutto Quindi magari Tu incominci a dire Alla persona Ok allora Devi leggere La Bibbia Devi cambiare Questo non devi dire Questo devi fare E la persona Non vuole Il processo Quindi è per questo Che esistono persone Che cambiano In un modo Così radicale Che fa impressione E ci sono persone Che passano 200 anni E non cambiano Mai Perché Perché non si Non permettono A Dio di lavorare Probabilmente Quando qualcuno dice No devi lavorare Devi andare Fino al sacerdote Deve attraversare La strada Perché ricordiamoci Che dove vivevano I lebrosi Fuori dalla città Quindi devi fare Tutta una strada Con un forse Guarirò Devo credere Che guarirò E arrivare Fino al sacerdote Per guarire E c'è gente Che magari Durante la strada Desiste C'è gente Che magari Dice Ma davvero È così Per questo È interessante Anche che fossero In dieci Probabilmente Da soli Non so Magari Avrebbero desistito Ma io immagino Qualcuno Che dice Non so Ma non si sta Succedendo niente L'altro Che dice Non importa Tanto cosa Abbiamo da perdere Andiamo tutti insieme Ci incoraggiamo Un'altra cosa Che è interessante In questo passaggio È che Per esempio Dipende dal carattere Dall'idea Ma uno Non avrebbe potuto Dire Scusa Gesù Tu sei più grande Del sacerdote Giusto Sei il figlio Di Dio Perché devo andare Dal sacerdote Perché non mi puoi guarire Tu Perché mi stai dicendo Di andare Da uno Che è molto più piccolo Di te Dei quali sto pure Antipatico Perché non lo Non potevano neanche Mettere il piede in chiesa Se fossero lebrosi E in genere Erano proprio i sacerdoti A cacciarli via Quindi uno dice Scusa Devo pure andare Da uno Che mi caccia via E qua entriamo Anche nell'altra parte Della guarigione Cioè Ma perché devo andare Da un pastore Da un mentore Mi può guarire Gesù Ma perché devo andare In una chiesa Io e Gesù Possiamo avere Il nostro rapporto Tra noi e noi Ma lui ha detto No Andrai proprio lì In una chiesa Forse con uno Che ti sa Pure antipatico Perché è così Che ho stabilito E se tu vuoi guarire Devi camminare Verso la chiesa Di Gesù Devi camminare Verso un'autorità Spirituale E devi farti vedere Perché è quella persona Che attesterà Anche la gloria Di Dio Nella tua vita Molti questi Non lo vogliono fare Amen Oggi ci sono quelli Io sono credente A casa O piuttosto Ci sono quelli Che dico Io sono credente Di domenica Ragazzi La vita cristiana Non esiste Una vita cristiana Di domenica La vita cristiana È tutti i giorni E non esiste Neanche una vita cristiana Da soli O tra me Mia moglie E noi Guardiamo internet Ciao internet Non esiste La vita è vita Cioè Tu e l'altro Ci si scontra Ci si chiede perdono Qualsiasi cosa sia Cioè È uno stare insieme La chiesa Cammina insieme Per questo Noi facciamo Life group Per questo ci sono Attività Giovane Gente insieme Condivisione di vita Confronto Confronto Uno confronta l'altro Carattere Parole Cose È così che noi cresciamo Anche se può far male È un male che fa bene Amen E questa è un'altra cosa interessante Quindi Non ti guarisco subito No Ma li ha guariti O non li ha guariti Secondo voi Secondo voi Se qualcuno Non fosse andato Fino al sacerdote A farsi vedere Sarebbe stato guarito Non credo Perché non stava camminando In ubbidienza Alla parola di Dio Gesù ha guarito Nel corso di questi ultimi anni Dove io non ho visto esattamente Quello di cui Dio mi ha detto Per esempio Lui mi ha detto di investire In alcune cose Che non ho visto ancora Il risultato Ma io non ho smesso di credere Perché se no Che fede è Allora lui mi dice Ci sarà acqua Io guardo oggi Guardo domani Guardo dopodomani Dico Sai cosa ti dico? Non è da Dio Non ci sarà acqua Se fosse così Per esempio Oggi non esisterebbe La città di Tel Aviv Chi è mai andato Nella città di Tel Aviv Qualche volta? Se siete mai andati In un luogo Che si chiama Independence Hall Dove hanno dichiarato L'indipendenza Il popolo di Israele Nel 48 Voi potrete vedere Una foto Di 70 famiglie Che hanno creduto In questa parola Che ci sarebbe stata Una città E sono andati lì C'era la spiaggia Ma non c'era acqua Perché noi parliamo Di un luogo deserto Dico Cosa hanno fatto Queste 70 famiglie La cosa che più mi ha scioccato Quando ho studiato La loro storia Perché oggi Tel Aviv È tipo New York Una delle città Più moderne Più grande del mondo Così in tecnologia Eccetera Cosa hanno fatto? 70 famiglie Hanno detto Noi Non andiamo via di qui Perché? Perché Dio ha detto Che questa Sarà diventata una città E dicono Ma non c'è acqua E loro hanno detto Non importa Dio ha detto Che ci sarà acqua Noi scaveremo Fino a trovare l'acqua E loro hanno trovato Così lì La strada Loro che dicevano Perché sai Un conto è Dice Sono guarito subito Io mi immagino Che vanno per la strada E dicono Tu sei guarito Io no Tu Io ne meno E tu Io ne meno Cosa facciamo Cosa facciamo Cosa abbiamo da perdere Andiamo fino lì No ma io non ci vado più Dai andiamo Siamo insieme E quando sono arrivati lì Erano tutti guariti Hanno ubbidito Dio Si sono andati Lì all'epoca Era il luogo Della fede locale Si sono fatti vedere L'autorità locale Cosa voleva Dio? Lui sapeva In genere Loro si sentivano Profondamente Rifiutati Dalle autorità locali Non potendo frequentarli E ha detto Andrete proprio lì Dove vi sentite Rifiutati Andrete proprio lì Perché è lì Il luogo Che dovete essere E loro sono guariti L'altra cosa Che noi vediamo Che interessante è Di tutti quelli guariti Io mi immagino La festa Perché poi Loro si allontanavano Dalla loro famiglia Non potevi Se eri lebroso Vivere con la tua famiglia Quindi l'idea Torno a casa Voglio vedere la mamma Voglio abbracciare papà Voglio abbracciare mio figlio E in tutta questa gioia Però si sono dimenticati Di dire Ma magari un grazie a Gesù Così Uno solo E questo parla Del livello Di gratitudine Delle persone Uno su dieci In genere Sono persone Che sono veramente Gratte Per quello Che loro Ricevono E io voglio oggi Controllare con te Il tuo grado Di gratitudine Perché la gratitudine E l'onore Sono cose Che appartengono Al carattere Una persona Gratta Apri le porte Del cielo Allora Piace anche agli esseri umani Qualcuno Che è gratto Sì o no Quando tu fai un sacco Di cose per qualcuno Sei felice Non è che tu vivi E fai le cose Perché qualcuno Ti ringrazi Però tu sei felice Se quella persona È riconoscente Sì o no E siamo felici O infelici Se non lo sono Riconoscenti Magari Magari non ci cambia La vita Però diciamo Però Abbiamo dato così tanto Neanche un grazie Nella gratitudine C'è il modo Come noi ci comportiamo Nella gratitudine C'è il modo Come noi parliamo Nella gratitudine C'è il rispetto Che abbiamo Verso le persone Che hanno fatto Qualsiasi cosa per noi Ricordati Siamo Dobbiamo essere gratti Anche se una persona Ti ha solo In un momento difficile Dalla tua vita Dato una buona parola Ricordati di essere grato A quella persona Per sempre Ricordati di fare Un regalo A una persona Magari ti dici Guarda Da quel momento Della mia vita Ero arrivato qua Dal sud Dal nord E non avevo una casa Quella persona Mi ha ospitato Per una settimana Sì grato A quella persona Per tutta la vita Perché quella settimana Probabilmente potrebbe Aver cambiato La tua vita Forse se non avessi trovato Una persona Che quella settimana Ti accoglieva Magari andavi via Dalla città Quindi Qualsiasi piccolo gesto Qualcuno ha fatto Verso di noi Una enorme gratitudine Per sempre Proprio per sempre Gentili per sempre Se hai bisogno di me Per sempre Perché quella persona Ha fatto qualsiasi cosa Per noi Quanto di più Verso Dio Che ha fatto tutto Per noi Amen E quindi Dobbiamo assolutamente Esercitarci Nella gratitudine Vediamo cosa dice La Bibbia La Bibbia dice Quanto bisogna Essere grati Misuriamo la gratitudine Filippesi 4.4 Qua dice Rallegratevi Sempre Nel Signore Vi ripeto Rallegratevi La parola Rallegratevi È essere Felici E grati Felici E grati Sempre Sempre Rallegrarsi Vuol dire Essere Felici E grati Sempre E qua dice Rallegratevi Nel Signore Perché dice Nel Signore Perché a volte Non abbiamo Motivi umani Per rallegrarci A volte guardi C'è un caos Nella tua vita Ma Dio è con me E dice qua La parola Quando Sempre Quando siamo grati Sempre Quando Sempre Allora è molto interessante Una persona Che ha un cuore grato Infatti Il passaggio Che viene subito dopo Dice La vostra Mansuetudine Sia conosciuta Da tutti gli uomini E questa è una parola Ho predicato varie volte Su questa parola Che questa parola In greco Mansuetudine In realtà In italiano È tradotto come Mansuetudine Ma non è questa La traduzione giusta La traduzione giusta Viene da una parola greca Che è Epieiche La vostra Epieiche Sia conosciuta Da tutti gli uomini Cosa vuol dire Epieiche Vuol dire Letteralmente La vostra Visione Benevola Sia Conosciuta Da tutti gli uomini Cioè Tutti dovrebbero Conoscerci Per la nostra Visione Bella Della vita Cioè Succede una cosa Brutta E tu riesci a vedere Il bello Nel brutto Noi dovremmo essere Conosciuti Per riuscire a vedere Il bello Nel brutto E dice che Tutti gli uomini Vi possono conoscere Per aver visto Il bello Nel brutto Una volta Un ragazzo Che era venuto da noi Molti anni fa Tutto un po' drogato Eccetera Io ero fuori All'estero Aveva distrutto Una porta Dell'ufficio Che noi avevamo Appena messo Rotto E poi una ragazza E poi una ragazza Mi chiama E mi dice Guarda il ragazzo È venuto Ha distrutto La porta E io mi ricordo Che ho detto Infatti quella porta Non mi piaceva Sarebbe buono Averne un'altra Ho fatto un incidente Con il pastore Diana Guidava lei Adesso è sua colpa Stavamo andando In una scuola biblica A Torino Io ripassavo Ed ero senza cintura Lei forse era Con la cintura Io ero senza cintura Non so Comunque all'epoca Non era d'obbligo La cintura Lei ce l'aveva Mi avevano regalato Era una macchina Era un Apollo Mi avevano regalato Questa macchinina Usata Bellina Da una settimana E lei ha detto Vabbè guido io per te Così ti onoro Ti servo E tu studi Per la scuola biblica Stavamo passando In un incrocio Insomma Passa una specie di Mercedes C'era uno stop Ma non so perché Nessuno l'ha visto Non si vedeva Lei dice che non si vedeva Quello stop Non si vedeva Era trasparente Era così Insomma Alla fine Facciamo questo incidente Lei tipo si rompe qui Io Sbatto la testa nel vetro E lei dice Non so che balbettavo Però Mi ricordo solo Di questa scena Che era bellissima Cioè io che avevo Sbattuto la testa Un po' balbettavo Lei che sanguinava Mi guarda sanguinante E fa così Ti do la mia Ti do la mia Ti do la mia Io non capivo Che cos'è che vi voleva dare Della sua Cioè voleva darmi La sua macchina No era tipo Ti do la mia E io Mi ricordo Che quella volta Ho detto così Infatti non è che L'Apollo mi piacesse molto Io volevo proprio Una BMW E sono successe Due cose interessanti Prima che siamo andati In pronto soccorso E tutti Come era Di fianco alla scuola biblica Tutti venivano a chiedere Come stavamo E dicevano così Sono una sorella Sono un fratello Sono una sorella E mi ricordo L'infermiera Che mi dice Scusi ma Ma quanta gente è Della sua famiglia Che sono già tutti qua In cinque minuti E io ho dovuto spiegare Che erano fratelli e sorelle Della chiesa Cioè Tutta la famiglia Era là in cinque minuti Ha detto Che gente veloce No? E quindi E poi Niente insomma Non dobbiamo mai circolare Ed è andata Però dopo Una settimana Davvero Qualcuno mi ha regalato Non era nuova Però mi hanno regalato Una BMW E io guardate ho detto Lo sapevo Vedi Dio Tu trasformi tutto In benedizione Allora E' una cosa Che noi dobbiamo imparare Alcuni ce l'hanno Già nel sangue Alcuni hanno Di cultura Di vedere Il bene Chi conosce Invece Gli animali Del malaugurio? Chi conosce Gente Che è l'animale Del malaugurio? Tu fai una cosa Bella Ah Che bello Quella persona Cosa vede? Il brutto Era tutto bello Ma il fasoletto Era rosso Non c'entrava niente Perché Insomma E' così A volte si impara I popoli In Europa Sono popoli Molto critici Noi impariamo Il criticismo Ma come noi siamo Figli della Bibbia E noi siamo Cittadini del cielo Dobbiamo imparare Il nostro Ip e Iche Deve essere conosciuto Da tutti Dobbiamo essere conosciuti Come quelli che vedono La bottiglia Mezza piena E non mezza vuota Amen? Quindi quando Dobbiamo rallegrarci? Sempre E se succede Una cosa terribile? Sempre Non mi rallegro Per la situazione Che dico Ah che bello Mi è morto Picco pallo Non stiamo dicendo Di questo Stiamo dicendo Che anche Nella morte Sei triste Per la morte Stai piangendo Per la morte Ma ti rallegri Perché Dio è con te Mentre passi Questo momento Ti rallegri Se la persona È andata in cielo Anche per lei Se no Comunque per te Ti rallegri E così Riesci a vedere Che Dio È in tutto Amen? Allora Essere grati È la volontà Di Dio Guardate qua Prima Tessalonicesi 5 18 Dice In ogni cosa Rendete grazie Perché questa È la volontà Di Dio In Cristo Gesù Verso di voi Quindi qual è La volontà Di Dio Che in ogni cosa Io renda Grazie Grazie Perché mangio Grazie Perché sono sveglia Grazie Sapete che gli ebrei Hanno anche una cosa Della loro gratitudine Che ringraziano Anche quando vanno In bagno E uno dice Ma Uno stitico Può capire Sta cosa Magari un altro Che funziona L'intestino No Signore Grazie Che mi funziona L'intestino Io sono stata In Amazzonia Una volta Ho avuto Una colica renale Ho dovuto fuggire Il medico Del campo In Amazzonia Mi diceva Fuga da qua Era in mezzo Alla foresta E ho smesso Di bere L'acqua Perché pensavo Che era l'acqua Del fiume Che mi faceva male Insomma Non riuscivo A andare in bagno Non lo so Per due giorni A fare la pipì Una cosa semplice Io mi ricordo Il mio ringrazio Il mio ringraziamento Grazie E ho pensato Sono cose Che noi Non ringraziamo Mai Perché è normale Non dobbiamo Aspettare Che non sia normale Grazie che funziona Tutto Grazie che mangio Grazie che sono vivo Grazie che finisco L'anno vivo Almeno speriamo E quindi Grazie 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 Dio Grazie Se una persona Fa qualcosa Grazie Se una persona Fa un'altra Grazie E dice Questa è la volontà Di Dio Colossesi 3 17 Dice così Qualunque cosa Facciate in parole O in opere Fate ogni cosa Nel nome del Signore Gesù Ringraziando il Padre Per mezzo di Lui Sta dicendo In opere E in pensiero Tutto quello Che riusciamo a fare Ringraziamo a Dio Perché lo facciamo Perché? Perché a volte Noi siamo pieni di noi Io posso Io riesco Io ce la faccio Io sono il meglio La mia miglior versione La mia La Bibbia dice Senza di Dio Noi non possiamo fare nulla Quindi anche se vuoi crescere Se vuoi migliorare Dio grazie che mi dai La grazia di crescere Grazie che mi aiuta Ad andare in palestra Grazie che mi dai La forza di respirare Grazie che non ho il Covid E quindi posso venire Questa sera Grazie Signore Grazie 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 Qualunque cosa facciate In parole O in opere Sta dicendo Che quando qualcuno dirà Wow che bella cosa hai fatto È perché È grazie a Dio Come sei riuscito a suonare bene È grazie a Dio Come giochi bene Noi abbiamo un esempio calcistico Per molti anni Abbiamo visto dei giocatori Che quando facevano un gol Facevano così Sicuramente credenti Che cosa volevano fare Grazie Signore Che se io sono una persona brava E tu mi hai messo qua E hai un piano e un proposito Per me Io voglio glorificare il tuo nome Pur facendo il calcio Qualsiasi cosa tu faccia Hai un super premio Nel tuo lavoro Ringrazia Dio È lui che mi ha dato Grazie e intelligenza Per essere qui E per essere bravo Nel mio lavoro Perché noi tendiamo A sentirci troppo Bravi noi E dire Vedi come io ce la faccio Senza la grazia di Dio Non ce la fai niente La Bibbia dice Che siamo come l'erba Oggi c'è Domani non c'è Quindi sta dicendo In tutto quello che fai Parole Pensieri Ah che bella poesia Grazie Signore Che mi hai dato il dono Di essere un poeta Come canti bene Grazie Signore Che mi hai dato il dono Di cantare bene I doni sono tutti i regali È il carattere Che appartiene a te Amen Per esempio Una persona sa cantare bene Cosa hai fatto Per saper cantare bene Dimmi Paolina Cosa hai fatto Per cantare bene Ragazzi Voi tutti lì Lì Che bella voce che ho Niente hai fatto Ti sei svegliato Da piccolo Da piccolo Che avevi una bella voce I doni Sono sempre regali Il carattere Non è regalo Essere una persona fedele Non è regalo Essere una persona onnesta Non è regalo Essere una persona Che sa parlare con gli altri Non è regalo Essere una persona Che sa chiedere scusa Non è regalo Essere una persona Che cambia Non è regalo Lì è carattere Lì ti puoi vantare Andiamo avanti Quando entriamo Nella sua presenza Dobbiamo essere gratti Guardate Salmo 104 5 Entrate nelle sue porte Con ringraziamento Nei suoi cortili Con lode Celebratelo Benedite il suo nome Poiché il Signore Poiché il Signore Buono La sua bontà Dura in eterno La sua fedeltà Per ogni generazione Sta dicendo Che ogni volta Quando noi veniamo Alla presenza di Dio Noi dovremo Partire ringraziando Invece come partiamo Siamo sinceri Io non valgo niente Non ho fatto questo Non ho fatto questo Oddio Sto venendo Finirò quest'anno Una cacca Volevo essere migliore Non lo sono Non volevo mangiare a Natale L'ho mangiato Volevo finire l'anno Con tre chili in meno Sono con tre chili in più Cioè già inizi Già inizi dicendo Aiuto Faccio schifo Come fai a volermi bene Sì o no Sì Perché? Perché siamo alla presenza di Dio E sappiamo che Dio merita il meglio E il nostro meglio E il nostro lamento Scusami che faccio schifo Non è così che dice la Bibbia La Bibbia dice Entra con ringraziamento Signore Grazie Che anche se faccio schifo Mi vuoi bene lo stesso Grazie Che anche se non sono riuscita Con tutti i miei obiettivi I miei punti Comunque mi vuoi bene Almeno tu Grazie Entra con ringraziamento Entra sempre con ringraziamento È così che bisogna entrare nella presenza di Dio Per essere ripieni dello spirito santo Il ringraziamento è essenziale Guardate qua cosa dice Fesini 5 18 21 Non ubriacatevi E vale anche per oggi questa parola Il vino porta la dissolutezza Ma siate ricolmi di spirito Perché nella Bibbia Il vino è qualcosa che porta gioia Insomma gli italiani sanno di questa cosa Giusto? Gli italiani sanno che il vino Alzi un po' il gomito E sei un po' più allegro I timidi parlano Avete visto? I timidi che parlano Balano Cantano Esatto Quindi c'è questo paragone Sta dicendo Non c'è bisogno del vino Che porta alla dissolutezza E dice così Ma siate ricolmi di spirito Che non è il nome di una cosa che si beve Perché esiste una cosa che si chiama spirito in Italia Parlandovi con salmi Inni Cantici spirituali Cantando e salmeggiando con il vostro cuore Al Signore E ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo Qui sta dicendo Per essere pieni dello Spirito Santo Guarda cosa devi fare Parlatevi con salmi Non è che inizia a dire Il Signore è mio pastore E l'altro Io non manco di nulla Sta dicendo Il modo Con lodi Con ringraziamento E poi dici Inni Cantici spirituali Non è che non parli più con una persona E inizia a dire Santo E l'altro dice Non è così che dice Sta dicendo È un modo di parlare Lodando Benedicendo Ringraziando E poi dice Cantando Salmeggiando Con il vostro Cuore È il cuore Che deve essere pieno di salmi Di ringraziamento È il cuore Che deve essere pieno Della parola di Dio È il cuore Che deve essere pieno Di Gesù E poi dice Ringraziando Continuamente Vedete Tutte le volte Che la Bibbia parla Di ringraziamento Dice che è continuo Che è per sempre Che va fatto sempre In ogni cosa In ogni momento Tutti i giorni Sempre Sempre Ringraziando Dio Ringraziando gli altri Allora Come deve essere Questo ringraziamento Colossesi 2 6 7 Dice così Come dunque Avete ricevuto Gesù Cristo Il Signore Così camminate in Lui Radicate Edificate in Lui Saldi nella fede Come vi è stato insegnato E Abbondandone Ringraziamento Cosa vuol dire Abbondare Più del necessario È ringraziare Di più Anche di quanto C'è bisogno Cioè non è solo Grazie Grazie Anche quando Ringrazio una persona Sai quando sei Imbarazzato Quando qualcuno Ti ringrazia Che è troppo E dici Io non sono Questa persona A me è capitato Alcune volte Soprattutto quando Mi presenta il pastore Ibi Che è il dono Proprio del Gli americani Hanno di cultura Questa cosa Di molto Lodare La gente Quando ti presentano Tu dici Anch'io vorrei Conoscere questa persona Chi è E sei Imbarazzato E che dice Non mi identifico Con tutta questa lista Di belle cose Perché loro Sono molto biblici Ecco È una cultura In questo Da copiare Gli americani Sono Esagerati Quando presentano Qualcuno Ma anche a tavola Ti presenta uno E inizia a dire Perché questa persona E tu guardi Ti senti quasi così Presidente degli Stati Uniti Abbondano Non solo con le persone Ma abbondano con Dio Quindi Il ringraziamento È qualcosa che deve essere Nelle vene Di un credente Ah ma è già così Di mio Non lo so Fai un check Con le cose che ti ho detto E vedi a che punto Che livello di ringraziamento sei E magari approfittiamo La giornata di oggi Invece di fare Quei banali auguri Anche a Natale A Natale Io volevo quasi fare un video Poi ho detto Non lo faccio Perché a un certo punto È quasi banale Con quei banali Che è un buon 2024 Pieno di grazia Prosperità Gioia Allegria Fai una cosa più bella Ringrazia la persona Per tutto quello Che ha fatto nella tua vita Nel 2023 Forse è una cosa più carina Padre Madre Cugino Qualsiasi cosa sia Amen Harvest 2023 Quando Dio usa le tue lacrime Per far fiorire il deserto Per far fiorire il deserto Grazie a tutti